allora raga mi sto facendo le mie adorate lenticchie però oggi voglio calare anziché la pasta voglio calare il riso magari lo faccio cuocere a parte e poi diciamo a metà cottura lo metto appunto lo calo nel nelle lenticchie perché sapete che il riso vuole un pochino più di tempo per la cottura quindi lo faccio cuocere poi lo butto giù allora raga oggi sono un pochino in ritardo però diciamo che ho fatto più cose e ora sono già alla terza lavatrice perché giustamente con con questo tempo lavatrici come se non ci fossero domani anzi ragazze vediamo oggi vorrei lavarmi un paio di tende vediamo se riesco quelle del salone a proposito di tende volevo dire che l'altra volta una mia una persona che mi segue appunto mi diceva ma io non ti vedo mai lavare le tende non ti vedo mai lavare i pensili all'interno allora ragazze io faccio tutto col telefonino e col telefonino in mano e quindi voglio dire non è che mi potete vedere salire sulla scala e smontare una tenda e io filmo tutto col telefono in mano diciamo che sarebbe una pazzia sarebbe appunto un motivo per finire per fare qualche brutta caduta quindi non mi vedrete fare queste cose se proprio ci tenete vediamo se oggi mio marito me le scende lui al limite io vi filmo la discesa delle tende ragazze vi avevo detto che oggi mi era presa la mania delle pulizie quelle giuste allora ragazze vi faccio vedere che ho spazzato tutto là dove ho tolto le piante secche poi messo fuori il tappeto ho lavato i tappetini del bagno della cucina e già sono stesi questa bella pianta l'ho messa qui sopra e ora devo fare dopo aver fatto il bagno è la parte della cucina mi voglio fare la parte del salotto e oggi metto questo come detergente rio casa mia con agente antibatterico ammoniaca detergente super profumata per pavimenti e tutte le superfici e quindi andiamo a metterlo ok e ora puliamo qua qui l'ho già fatto come vedete parte cucina e un pochino di zona pranzo e niente quindi continuiamo ragazze ho sentito il portone di casa ho paura che sia mio marito mamma mia ora comincia a lamentarsi che trova bagnato ma come devo fare ragazze oh my god mi sa che è lui ragazze dan 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 vediamo vi metto in attesa ragazze vediamo se è lui oh my god l'ascensore si è fermato qua che bello sono andati nella porta accanto sì perché ogni volta mi fa la testa tanta ho tutto bagnato e questo e quello allora raga io vi saluto anche oggi siamo state insieme ora qui per asciugare ci verrà ci vorrà un bel po' ma va bene nel frattempo maia mi cammina sui pavimenti bagnati e poi mi zompetta in tutte le sedie guardate vi faccio vedere quello che lascia non so se riuscite a vedere vedete la zampina vedete però può darsi che asciugando non si veda nulla allora raga vi saluto vi mando un bacio e allora stamattina non ce l'ho fatta a fare il video dell'outfit vediamo nel pomeriggio però capite che dopo una mattinata a pulire a stendere a fare lavatrici soprattutto a passare lo straccio a pulire i pavimenti a fare anche un po' di giardinaggio capite bene che non ce la faccio sono le 13 vediamo che cosa posso fare più tardi eventualmente il problema non c'è perché è solo rimandato questo video ok raga allora io vi saluto vi mando un bacio vogliatemi sempre bene grazie a tutte le nuove iscritte grazie sempre per i complimenti che mi fate vi ringrazio tantissimo specialmente questa ultima iscritta che mi ha detto di avere per caso incrociato un mio video e che le è piaciuta tanto la mia voce che le è piaciuta la mia casa il mio arredamento quindi la ringrazio tantissimo ok ragazzi allora continuate sempre a iscrivervi noi ci vediamo domani mattina grazie a tutti